La sfortuna esiste davvero o è pura superstizione? Se lo chiedono da sempre gli scienziati e adesso con la psicologia e con la statistica sono riusciti a scoprire che la Iella non colpisce mai a caso. La sfortuna ci vede benissimo, esistono però dei metodi scientifici per neutralizzarla. Grazie a tutti.